Buongiorno e ben ritrovati con questo nuovo appuntamento di Advisory Update. Oggi parliamo di private equity e di venture capital in Italia, avendo anche una prospettiva rispetto a quella che è la proposta maltese che spesso abbiamo anche avuto il piacere di avere e di dibattere all'interno dei nostri spazi qui alle fonti tv. Prima di presentare i nostri ospiti volevo darvi un po' un quadro da un punto di vista delle numeriche sullo stato dell'arte del mercato. Secondo i fatti dati forniti a metà aprile dall'AIFI, ovvero l'Associazione Italiana del Private Equity, Venture Capital e Private Debt, in collaborazione con PwC Deals, nel 2020 la raccolta del mercato del private equity e del venture capital si è attestata a 2.072 milioni di euro, registrando quindi una crescita del 32% rispetto all'anno precedente. La montare investito dagli investitori però è calato del 9% rispetto al 2019, attestandosi a quota 6.597 milioni di euro. Altro elemento interessante riguarda l'assenza in parte degli investitori esteri anche legati alla pandemia. Insomma, luci e ombre rispetto appunto al 2020, ma cerchiamo di capirne meglio grazie appunto agli ospiti che abbiamo oggi in trasmissione. È con piacere infatti che vi introduco l'avvocato Davide Nervenia, partner di RP Legal & Tax. Buongiorno Alessia, grazie per l'invito. Buongiorno a lei per essere qui con noi e ritroviamo in collegamento da Malta Joseph Camilleri, Executive Head Business Development and Support Wealth Management di Bank of Valletta. Buongiorno Joseph. Buongiorno Alessia e grazie per questa opportunità. Grazie. Grazie a lei per essere qui nuovamente con noi. Avvocato Nervenia, abbiamo dato alcuni numeri, ma come si sta evolvendo il mercato di private equity e venture capital qui in Italia? Guarda Alessia, per quello che posso testimoniare, sicuramente sto vedendo un maggiore interesse in questo periodo degli operatori del settore verso il mondo della gestione collettiva, verso la possibilità di strutturare dei veicoli regolamentati che possano aiutare nella fase di raccolta soprattutto. Questo fenomeno è spinto anche dall'esigenza del mercato, dell'industria della gestione collettiva di poter offrire prodotti che si focalizzano su delle asset class emergenti come appunto quelle di private equity, venture capital, ma da ultimo anche non dimenticherei prodotti nel settore della sostenibilità, quindi prodotti ESG, vedo anche l'affermarsi di prodotti ancora più innovativi come fondi che investono in diritti d'autore, diritti musicali e anche l'interesse sulle crypto assets. Quindi si stanno avvicinando un po' due mondi, il mondo tradizionale della gestione collettiva e il mondo invece quello più operativo delle specifiche asset class. Si tratta sostanzialmente di iniziative imprenditoriali, cioè l'operatore che oggi fa private equity o venture capital che ha già il veicolo, che magari è una società per azioni, una società holding o una struttura di club deal, vede con favore la possibilità di evolversi verso una struttura regolamentata proprio perché questo gli consente di amplificare la capacità di raccolta. Ovviamente questo non è un passaggio semplice, si sposano due culture diverse e anche due esigenze diverse, quelle imprenditoriali di chi ha le competenze su quella specifica classe TAS e invece le esigenze della società di gestione del risparmio che deve ovviamente poi conformarsi a tutta una serie di regole normative dettate dal legislatore e dalle varie autorità di vigilanza. È un processo questo che in altri paesi si è già da tempo affermato, probabilmente Joseph ci testimonierà di questo fenomeno. In Italia ha un po' stentato, ma grazie innanzitutto probabilmente alla spinta dei fondi di real estate in passato e adesso appunto queste classe TAS specifiche, si sta ben posizionando anche in Italia. Non dobbiamo dimenticare che il mercato della gestione collettiva in Italia è sempre stato bancocentrico, cioè un sistema fondamentalmente che si basava sulla rete distributiva bancaria. Questo sta in parte appunto evolvendosi, l'SGR in Italia è sempre più anche un operatore indipendente, un operatore che ha bisogno di avere nel proprio portafoglio prodotti, asset class emergenti, ed è anche un operatore che si propone come un fornitore di servizi appunto al mondo del private equity, del venture capital come centro servizi. Ecco, a questo punto cederei la parola a Joseph che è stato prima appunto chiamato in causa. Come si inserisce la proposta maltese per questi operatori? Sì, grazie Alessia. Condivido pienamente quello che diceva l'Avvocato Nervenia. In effetti rispecchia quello che è stato detto finora, quello che abbiamo vissuto noi per quanto riguarda operatori internazionali dal centro Europa, primariamente anche centro-est Europa, dove abbiamo visto il venire insieme di due concetti come spiegava l'Avvocato, cioè i veicoli di investimento, stiamo parlando di schemi collettivi di investimento, come veicoli per fare fundraising per il finanziamento di progetti imprenditoriali. Ovviamente i progetti imprenditoriali possono essere finanziati tramite ovviamente i mezzi più tradizionali, stiamo parlando del credito bancario piuttosto che anche emissioni di bond. ma questi non sono gli unici mezzi per poter finanziare, per poter anche avere una disponibilità di crescita, diciamo una partecipazione da parte di soggetti vari per fare fundraising per i loro progetti imprenditoriali. In effetti nel settore del private equity, venture capital e anche come ISG, come diceva l'Avvocato Nervegna, abbiamo visto vari operatori comunitari e non anche svizzeri che si sono rivolti a noi per usufruire Malta non tanto quale mercato, ma quale mezzo di mercato. Noi quello che abbiamo offerto e messo sul tavolo che è stato ben accolto sono le strutturazioni di veicoli di investimento ai quali ovviamente possono partecipare N investitori diversi che ci credono in un'idea imprenditoriale, le quali strutture finanziarie hanno fatto investimenti, come dicevamo, nel private equity o nel venture capital, anche nel real estate, in settori economici specifici come case di cura, agricultural land e altri progetti di questo genere. Ovviamente stiamo parlando di un veicolo regolato, autorizzato da un ente regolatorio nel settore finanziario e perciò stiamo vedendo il venire insieme di questi due concetti che sono in questo senso qua diversi ma complementari uno all'altro. Indubbiamente in quanto ci sono delle competenze dentro la struttura del fondo, dell'SGR, che ovviamente gestirebbe la parte di liquidità del fondo, in asset classes che sono tradizionali, sono asset classes finanziari, ma poi c'è il main asset class che ovviamente sarebbe l'investimento in società non quotate sia per private equity investment come anche nel venture capital. E non è inusuale che tale struttura, dentro l'SGR, che viene nominata come gestore esterno del comparto, che investe ovviamente nel progetto imprenditoriale, che ci sia un comitato tecnico che dà consulenza specifica sul settore imprenditoriale nel quale si va a investire, alla società che gestisce. Perciò ovviamente le decisioni di investimento e l'insieme di competenze nel settore specifico del private equity investment, abbinato ovviamente alle competenze del gestore tradizionale finanziario che tramite la propria struttura esegue tali investimenti e gestisce anche la liquidità, la governanza, il risk management e il compliance di tutta la struttura. E perciò direi che proprio è la nostra esperienza che abbiamo avuto in questi ultimi anni che va avanti direi con un tasso di crescita abbastanza interessante. Ecco, Joseph Camilleri ha quindi testimoniato di come il mercato, i player appunto private equity e venture capital si rivolgano spesso ad altre giurisdizioni proprio per la strutturazione di fondi che siano in grado di farli crescere. Ma Avvocato Nervegna, che cosa poi cercano effettivamente? L'aspetto dei costi, i canali istituzionali, che cosa? Ma sicuramente a prescindere prima ancora dalla giurisdizione c'è una domanda di fondo a cui l'imprenditore deve rispondere. L'imprenditore che guarda il mondo dei fondi ha di fronte a sé un bivio, deve scegliere se farsi la propria SGR oppure se avvalersi di una SGR terza che, come dicevo, fornisce servizi. È chiaro che quindi il primo elemento sono i costi perché l'imprenditore valuterà sicuramente se l'opzione di costituire una propria SGR che sicuramente può avere dei vantaggi è, da un punto di vista di costi, efficiente rispetto a un'alternativa che sempre più si sta affermando sia in Italia che all'estero. Quindi sicuramente c'è questa prima analisi. Una seconda analisi è quella della governance. Non dobbiamo dimenticare che chi è lo specialista di quella asset class ha le competenze specifiche per fare quello che si chiama cherry picking, per fare la selezione degli investimenti. E ovviamente deve poter avere voce in capitolo su questi aspetti. Quindi questo è il tema poi che deve essere dipanato e gestito tramite le carte, il ruolo ovviamente degli avvocati, ma in cui certamente la giurisdizione dove si va a istituire il fondo ha ovviamente un peso, perché in base alle regole di questa giurisdizione la gestione degli aspetti di governance è più o meno complicata o semplice. Poi ci sono sicuramente altri fattori sempre collegati a quello della governance e a quanto dicevo poc'anzi, e ovviamente questa diversa allocazione delle competenze e dei ruoli si deve poter riflettere anche nella parte degli economics, cioè nella gestione e l'accazione dei costi, ma anche nella parte commissionale. Evidentemente se nel modello tradizionale l'SGR trattiene tutti i costi, cioè tutte le commissioni derivanti dall'attività, in questo caso una parte delle commissioni deve poter essere ribaltata o destinata a chi è il promotore dell'iniziativa, a chi al tempo stesso è anche un investitore. Cioè non dimentichiamo che in questi modelli chi propone il prodotto non solo ha l'idea e non solo sa come farlo funzionare, ma molto spesso ha anche dei capitali che può investire nello stesso progetto e che investe, e ha anche una rete che gli consente di fare una parte del fundraising. Quindi questo ovviamente non può non essere tenuto poi quando si va a regolare la parte che attiene alle commissioni e poi all'exit la ripartizione dei proventi, che ovviamente rispecchia certe dinamiche tipiche dei fondi, o meglio più che dei fondi del private equity, c'è il venture capital e quindi con una particolare attenzione alla ripartizione del care di interest. Ecco, grazie avvocato. Joseph, la vedevo annuire perché appunto si ritrova in quello che ci stava appunto dicendo l'avvocato Nervegna. A quel punto ci sono, abbiamo avuto modo anche di parlare qui alle fonti di tv spesso, dei veicoli proprio della giurisdizione maltesa i PIF e i NIF che anche nell'ambito di private equity e venture capital possono risultare particolarmente di interesse. È così? Assolutamente sì. Ancora una volta condivido tutto quello che diceva l'avvocato. In effetti Malta, come si è posizionata negli ultimi anni, sicuramente ha dei punti di vantaggio che molti operatori hanno visto sulla proposta maltese e seguito a una valutazione loro avranno scelto di strutturare i loro veicoli sul territorio maltese regolati dalla Molta Financial Services Authority a Malta. In effetti si è parlato di costi. Malta è stata sempre molto attenta a mantenere un pacchetto completo, competitivo dal punto di vista economico, perché ovviamente qua stiamo parlando di un settore già super affollato, con delle giurisdizioni che sono molto gettonati da parte di vari operatori internazionali, in quanto hanno una storia lunga di vari decenni. Malta, essendo la new entry in questi ultimi anni in questo settore, ovviamente voleva ritagliarsi il proprio spazio. E per far sì che questo avvenisse, ovviamente ci sono state delle caratteristiche particolari che Malta ha necessariamente voluto mantenere in focus, cioè di assicurarsi che su alcuni temi Malta poteva proporsi in modo molto concorrenziale una volta confrontati con altre giurisdizioni. I costi sono uno di questi fattori, di queste caratteristiche. In effetti strutturazioni di fondi a Malta, da pacchetti chiave in mano, stiamo parlando di costi ben inferiori a quelli che si possono riscontrare in altre giurisdizioni comunitarie. E anche in confronto a giurisdizioni offshore, perché non è detto che alcuni non considerino anche di strutturare i loro veicoli in zone offshore. E perciò Malta qua ha mantenuto un pacchetto sia per la strutturazione ma anche per le attività di natura continuativa dove ci sono costi ricorrenti di essere molto competitiva, almeno la metà di quello che si ha in paesi diciamo come Lussemburgo, Dublino e altre piazze. Ma direi che i vantaggi non si limitano solamente a fattori di natura economica. Ovviamente una cosa che noi riscontriamo su base continuativa è l'accelerità e l'efficienza con la quale noi possiamo gestire pratiche e farli autorizzare da parte del regolatore maltese. In effetti questo è un concetto che anche il regolatore maltese riconosce quale componente fondamentale, non importante, ma fondamentale direi per la continua crescita del settore. In effetti molti di noi operatori sul mercato abbiamo dei rapporti molto vicini con il regolatore maltese, abbiamo un collegamento con la MF6 diciamo su base giornaliera in quanto gestiamo varie pratiche sia pratiche per fondi nuovi piuttosto che per emendamenti, per aggiustamenti a strutture già esistenti, come creazione di classi di investimento diverso piuttosto che altre modifiche che i vari promotori possono necessitare nei loro veicoli. Perciò l'MF6 ha riconosciuto l'importanza dell'efficienza e noi la nostra premessa di essere efficienti direi che è ben diffusa sulla piazza maltese. C'è anche da dire che il regolatore maltese invariabilmente è molto disponibile ad incontrare gli imprenditori, gli SGR che si presentano per gestire questi veicoli che si sono collegati anche con i progetti industriali e direi che il regolatore maltese funge da un punto focale molto importante che contribuisce alla crescita del settore. E noi ci vantiamo di questo. Tutte le volte che ci viene a visitare un promotore nuovo, in quest'ultimo anno purtroppo i casi sono stati molto limitati in quanto ovviamente c'è stata la pandemia, ma abbiamo ovviamente anche organizzato in alternativa incontri in modo telematico. ma invariabilmente in uno scenario post-Covid o prima della Covid imprenditori più SGR internazionali che vengono da noi oppure che li abbiamo individuato noi in piazze diverse, li portiamo a Malta presso il regolatore, incontri con l'alta dirigenza del regolatore, dove si trasmette un messaggio di noi vogliamo fare business, noi vogliamo assistervi nella realizzazione dei vostri progetti. E possiamo vantare che il nostro business come società, come fornitore sia di strutturazione, sia di fund administration e altri servizi che offriamo, grazie a questo mantenimento della nostra promessa di essere competitivi dal punto di vista finanziario, dei costi e efficienti nella gestione di tutte le pratiche, riusciamo in modo continuativo a continuare a crescere questo settore. Lea, tu hai citato Malessia prima, i professional investor funds e anche il notified alternative investment funds, qua stiamo parlando di due normative che regolano il settore alternativo, diciamo, dei fondi, sia per quelli che sono sopra soglia o sotto soglia, rispetto alla normativa AI-FMD. Li possiamo anche vedere, chiedo infatti dalla regia se possono magari mandarci una delle prime slide, così anche per aiutare i nostri telespettatori, per appunto seguire con più attenzione. Sì, in effetti se posso continuare, queste sono strutture che possono ospitare queste strategie alternative, comprese anche quelle, diciamo, di private equity venture capital, sia quelli che sono sotto soglia, per i quali ci sono i professional investor funds, e quelli sopra soglia, dove ci si può scegliere tra un alternative investment fund regolato, piuttosto che una struttura di un notified aid, dove necessita solamente una notifica al regolatore, in quanto si tratta di un prodotto del gestore, e perciò sarà il gestore full scope AI-FMD, che ne assume tutta la responsabilità per il proprio prodotto. Lì c'è un percorso, un'iter molto celere per l'eventuale approvazione, per lanciare il fondo sul mercato, in quanto stiamo parlando di meramente dieci giorni dalla notifica al regolatore su prodotti come private equity venture capital, sotto questo settore, con tutta la possibilità anche del passporting di questi veicoli, di notified aid, su tutto il territorio comunitario. e perciò direi che sia l'infrastruttura di Malta, per questo settore, sia innovativa, sia molto flessibile, che può ospitare le varie strategie, e anche possono essere strutturati, strutturati questi veicoli, in forme legali diverse, dalla SICAV, al Contractual Fund, al Limited Partnership, e anche all'Unit Trust Fund. Perciò ci sono varie legal forms, che da stati diversi, vediamo che vi siano preferenze diverse. E noi, la nostra infrastruttura legale e normativa, consente per poter scegliere da uno di questi, queste legal forms, forme legali, nelle quali possono essere strutturati i fondi. Perfetto. Grazie mille anche a Joseph, per averci fatto, insomma, questo excursus, sulle possibilità concrete ed effettive, della proposta maltese, proprio per questi player, che è l'obiettivo di questo incontro. Il tempo a noi a disposizione è esaurito, ma direi che, insomma, gli elementi ce ne sono diversi, e speriamo, insomma, di poterne dialogare anche più avanti. Io ringrazio quindi i nostri ospiti per essere intervenuti con noi, l'Avvocato Davide Nervegna, vi ricordo, partner RP Legal & Tax, grazie per essere stato con noi, e Joseph Camilleri, Executive Ed, Business Development and Support, Wealth Management, di Banco Balletta. Grazie Joseph. Grazie, grazie a te, grazie a te. E ringrazio, ovviamente, anche voi per averci seguito, non mi resta che lasciarvi al resto della programmazione di Le Fonti TV. Grazie a tutti. Grazie a te, Grazie a tutti